Come si dice in questi casi, la situazione è conosciuta. Il settore servizi sociali del comune di Padova è intervenuto sul caso del 47enne che, dopo aver perso la casa, ha trasferito le sue cose in un gazebo allestito come dimora di fortuna all'interno di un parco della zona del quartiere di Torre. Per l'uomo rimasto senza un lavoro e solo dopo la morte della madre, Palazzo Moroni aveva nell'ultimo periodo individuato diverse soluzioni per lui, come ad esempio una sistemazione temporanea, che però, fanno sapere, ha scelto di non utilizzare. Nei giorni scorsi, inoltre, ha scritto in una nota l'assessore al sociale Marta Nalina, è stato fissato con lui un appuntamento per provare a trovare assieme altre soluzioni e avviare un percorso di reinserimento. Al vaglio la possibilità di aiuto economico nella ricerca di una sistemazione sul mercato privato, visto che al momento non è possibile un'assegnazione di alloggi popolari. Ma nella vicenda travagliata dell'uomo si inserisce anche la polemica politica. Il caso, infatti, è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica dal consigliere di opposizione Alain Luciani, che aveva attaccato l'amministrazione comunale. Certe situazioni così delicate non vanno strumentalizzate. Si chiama propaganda sulla pelle delle persone, spiega l'assessore al sociale Nalina. Prima di tutto va tutelato chi è in difficoltà. Il 47enne disoccupato, che vive nel gazebo, fanno sapere dal comune, usufruisce inoltre del reddito di cittadinanza. La sua situazione verrà risolta con misure concrete, chiude l'assessore al sociale, che invita Alain Luciani a segnalare casi di difficoltà agli uffici del comune e non nei social network.